Ciao a tutti, mi chiamo Simone De Bernardi, ho 24 anni e volevo lasciare questa videotistimonianza per il corso che ho fatto è uno dei pochi percorsi che ho trovato con le nozioni veramente pratiche da gente competente in cui spiega quello che veramente fa, dove prima fa e poi spiega quello che veramente sa di sapere sono veramente soddisfatto perché grazie a questo percorso sono riuscito a stravolgere la mia vita ho cambiato completamente i miei paradigmi mentali perché prima avevo un certo tipo di mentalità e grazie a questo percorso mi ha aperto molto più la mente quindi abbiamo affrontato proprio step by step tutti i punti necessari che servono per arrivare dalla A alla Z a fare questo percorso e sono molto soddisfatto